Come è la collaborazione tra credenti? Il sistema consumistico e materialista che dall'Occidente si sta imponendo in tutto il mondo. Quindi io spero in una collaborazione forte tra le religioni moneteiste per collaborare sempre di più verso la soluzione di questo male assoluto che è il darwinismo e il materialismo scientifico.